Ciao, ciao, benvenuto in quello che è il mio canale di videomaking. Ecco, c'è già la luce che fa interferenze. Allora, questo è il canale che ho deciso di dedicare a quelli che sono gli artisti da strada. Quindi ti do il benvenuto in quello che è appunto il canale videomaking. Mi presento rapidamente, sono Cristian Giglio, sono attualmente uno studente all'ottavo anno nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino di Composizione. Suono pianoforte e tra le mie tante passioni, adesso vediamo delle foto di quando ero bambino, tra le mie tante passioni c'è proprio quella del video, della ripresa. Sia il video di ripresa, quindi qui ho questo mio modello, la mia macchina fotografica Bridge che mi sono affezionato, è un modello entry-level, Sony Zeiss DSC350. Facciamo un po' di zoom così, ecco, ha uno zoom molto potente. Ecco, adesso vediamo queste foto, ecco qui per esempio più o meno avrei avuto sui 4-6 anni, poi pian piano andiamo avanti e fino ad entrare qua, ecco per esempio questa, 11 anni. Mi sono già nella preadolescenza. Questa passione che avevo appunto già da piccolo, quindi sono quelle cose che in questo periodo molto particolare, questo periodo storico veramente fortemente critico, tra tutti gli aspetti negativi, un aspetto positivo per me è proprio la riscoperta di quelle che sono alcune passioni che magari abbiamo lasciato, abbandonato nel nostro cassetto di casa e adesso c'è un po' una riscoperta. Allora, questa passione mi ha portato poi a, diciamo, entrare in gioco nel campo di battaglia che è stato proprio quello con gli artisti da strada, quindi proprio quelle persone, direttamente a contatto con queste persone. Ecco, voglio precisare che questo canale non è soltanto, non ha soltanto la funzione chiaramente di sponsorizzare, valorizzare quelle che sono tutte le prestazioni, le competenze e anche abilità che portano in gioco gli artisti da strada a Torino, ma proprio valorizzare l'arte da strada nel senso più totale e generico del termine. Grazie agli artisti da strada la città di Torino vive. Io immagino, cioè proviamo a immaginare che cos'è appunto una Torino senza scortare la voce e l'uculere di Francesca Colli. Voce e chitarra di Anthony Nezima Lynch, le pianoforte Roberta Gianni, Andrea Palma, poi Luca D'Amato, insomma, e tanti altri ancora, no? Adesso il ritmo, il beat, l'energia che ci trasmette D'Amato e anche Pietro Zagatti, insomma, e tutte queste grandi, insomma, grandi piccoli personaggi, possiamo dire, no? Che ci danno veramente tanto nel loro piccolo, diciamo, no? Nel loro ambiente. Ok, quindi per questo video è tutto, ti invito, chiaramente, decido di pubblicare un video alla settimana, il venerdì sera, e quindi ti invito appunto ad iscriverti al canale, ricordati di, ovviamente, cliccare sulla fatidica famosissima campanella, così rimani appunto aggiornato, e basta, questo è tutto. Ci vediamo la prossima, con appunto il primo video, e stavi bene. Ciao, e buona giornata!